Diario del comandante, data astrale, nono giorno di viaggio, ore 10 e qualcosa Dove siamo? Civitavecchia? Civitavecchia Ci stiamo appena nutriendo da McDonald's La nostra hostess indica qua come il panino Sulla sfondo dietro il panino potete notare una ragazza assorta nei suoi pensieri Vabbè andiamo avanti Sandro vuoi dire qualcosa per i futuri a futura memoria? Che venite a questo McDonald's perché si mangia veramente bene, sembra quasi più buono Questa è la fame che penso che ti suggerisce Probabilmente Giambiero concorda pienamente Oggi è meglio di quello che si era Come sei simpatica Devi concordare Un po' gratis è sempre bene E vabbè Stai criticando la roba che io avevo in casa No 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 più che altro sta criticando come l'ho cucinata io la roba che avevo in casa Ah qui c'è il tizio che stai pigliando per il culo Dai dai voglielo dire in faccia Voglielo voglielo dire in faccia dai 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 No Che ti ha fatto? Ti inquieta il senegalese di due metri E beh fai bene Così impari Due metri non è l'altezza Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti